ciao a tutti vi faccio un breve aggiornamento su come calzano i sandali di cui ho fatto la recensione e di cui vi ho fatto vedere come si costruiscono come si fanno con il kit che vi mandano a casa allora vi faccio vedere che sono appena rientrato vediamo come si cambia dunque sono appena rientrato da una corsa di circa mezz'ora e questa è la decima corsa che faccio con questi sandali e devo dire che sono veramente buoni mi trovo veramente bene perché uno non c'è nessun tipo di infortunio in queste dieci uscite non ho mai avuto un infortunio soprattutto l'infortunio al tendine questa parte della gamba qua questa che ogni volta che faceva un'uscita mi faceva male dopo 5 10 minuti subito mi faceva male quindi la mia teoria è che il corpo avendo un contatto con il terreno molto più diretto sa come impostarsi durante la corsa molto meglio di quanto faccia quando uso le scarpe quindi secondo me questa è una ragione e poi che dire insomma una corsa risulta un po diversa da quella che si fa con le scarpe perché si sta molto più retti con il busto e si tende a tenere sempre i piedi sotto sotto il tronco insomma durante il balzo sotto il tronco del corpo quindi stile di corsa un po diverso sono molto contento gli sandali reggono bene i piedi non sentono né calore né vesciche né calli a parte le prime due uscite in cui sotto la pianta del piede sentivo che si stavano formando dei calli ma adesso tutto bene tutto normale sono molto contento di questi sandali e che dire vi terrò aggiornato e ci vediamo nel prossimo video grazie